Allora, stamattina mi sono alzato, presto, ho preso il treno, sono arrivato qua a Milano, ora sono in metro, sono andato in studio, e sono bravo l'ora. Allora, quando ho registrato la strofa di Ne Voglio Di Più, c'era Mil in studio che ascoltava, quindi abbiamo deciso che a Mil porta bene quando è in studio. Per forza. Ora sono venuto a registrare un'altra roba mia, a Mil è passato a salutarmi, quindi dovrebbe portare bene. Dovrebbe essere una hit. Infatti, diciamolo qua, dai, allora, stanotte, a mezzanotte, esce il disco di a Mil, numero 9, andate a prendervelo. Per forza. Piattaforme digitali, poi ci saranno anche in store, mi ha detto Biggie. Sì. Quindi, magari uno in Caverona. Per forza. A Mil dov'è? Dov'è? Numero. Numero, numero 9. Allora, questi due ragazzi mi hanno fatto tutto l'album. Questo è Fizzotti, che mi ha sopportato per mesi a Milano a registrare da mattina a sera fino a tardi, eccetera. Questo è Giozzo, che mi sopporto tipo ogni giorno a provini, beat, eccetera. Mi mostro così. Puoi essere carissimo. Puoi essere carissimo. Puoi essere carissimo, che è qua. Chitarrista, del brano Occhi Su di Te, uno dei miei brani preferiti. Ma me ne ho mezzogiorno. Comunque per me la porti di Dietiete. Più di difference ai due ragazzi. quindi non ha instagram devo imparare e vado a solo senza tasto voilà esatto in realtà guarda non mi ricordo più cosa ti volevo dire che Jossi hai fatto instagram giusto ieri esatto esatto e l'ho fatto perché non sono più un rocker ora è un producer tra esatto quindi posso avere instagram così diciamo che ci siamo poi da qua si lavora di cartieria è arrivato anche Radogna per l'altro per curiosità sai cosa devo fare vediamo se cosa poca roba dico non c'ho la melodia ok c'è armonia sì sì esatto così va bene ma Ale cosa stanno dicendo questi due che lingua stanno parlando stanno dicendo i drame stanno dicendo e dicono che i rapper non si svegliano presto Ahmed sta storia guardalo lì mamma mia to' morendo colpa del tuo manager più ballordo di sui night finalmente positivi veri è arrivato anche così sono bisogno ma siamo in diretta no siamo in diretta parlo solo canale diretta perché poi rimane capito spese intelligenti la birra e basta e poi fa la foto baking soda bebe bebe